Billcraft con i porco cazzini I procedimenti separati tipo quello è un procedimento, quello è un procedimento, molto grande, quello è un procedimento eccetera eccetera, volevo tenerli tutti separati, lo so che avrei potuto fare un po' lì, un po' lì, un po' là, che ho molto spazio però preferisco tenerle le cose così perché appunto funzionano bene. Ho spostato quelle pipe là lì sotto e quelle dell'acqua qui dietro perché ho realizzato che non avevo spazio per i filter e per gli item per farle arrivare. Ho già fatto il setup di tutti i quattro cose che dovremmo fare, il creating, quindi il carbone, la nicolite, l'apis e la redstone, quindi ora ci tocca solo mettere i quattro filter. Così, uno, due, tre, e quattro, quindi un, due, tre, e quattro. Non ho ancora testato se riesce a tirare fuori le cose dal punto giusto. Forse dovrei far così, prendere nove pezzi di redstone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fatemi mettere giorno, ok E ora che abbiamo messo giorno Mettiamo questi pezzi di redstone lì dentro, li facciamo fare così E Facciamo un pulse Uh, uh, mi sono appena accorto di una cosa bruttissima Ah, ah, non va bene Ehm, devo trovare un modo per fissare sta cosa Andiamo, posso far così? Dov'è andata la leva? Ok, sì, posso far così Posso fare, dare un tick a questo e vedere se lo tira fuori Però prima mi serve un qualcosa dove mettere questo Ehm, vediamo Come posso fare? Prendiamo una cesta in prestito Dov'è? 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 Scriviamo un chest Chest Ecco, la prendiamo in prestito, lo mettiamo qua Ehm, no Ha tirato fuori dal lato sbagliato Ha tirato fuori da qua Proviamo dall'alto a vedere se tira fuori giusto dall'alto Perché se non lo tira fuori giusto Sarò un po' scontento Però c'è sempre un modo per riparare questa cosa Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa del genere Così tira fuori quelle Quindi l'unico modo per risolvere questo Togliamo tutto questo macello che abbiamo fatto E dire al nostro filter di tirare fuori solo quello che noi vogliamo Sperando che obbedisca Ehm, quindi Prendiamo Una di queste Ops Ok E le diciamo tira fuori solo le crated redstone Proviamo ora La lever Non la tira fuori Magari forse perché quella non la conta Proviamo Prendiamo un bel po' di redstone Così non devo stare a far su e giù Ehm Mettiamola dentro Andiamo Proviamo ora No Ok Non la tira fuori Quindi come possiamo fare Vediamo se con delle pipe di buildcraft Funziona Perché se funziona Utilizzo quelle che Mi rendono la vita molto più semplice Invece di stare a complicarmi la vita con i filter Ehm Vediamo Togliamo tutte queste cose inutili per ora Dov'è la cosa di buildcraft? Eccola qua Ehm Sì ce le ho E mi servirebbero in prestito dei redstone engine Ne rubo uno per un attimo da qua Ma non importa se Lo togliamo per ora Ehm Vediamo Dobbiamo ridirezionarlo Ho un'idea per non stare a ridirezionarlo Possiamo metterlo lì Vediamo Ora attivando questo qui In qualche modo Ci sarà un modo no? No eh? Il gioco mi odia Ehm Questo Ecco qua Ehm Come faccio? Non Così è giusto? Sì Vediamo Ok Dovrebbe tirare fuori le created redstone Solo quelle Togliamole tutte così vediamo cosa tira fuori Se non c'è nulla Ok Perfetto Funziona Quindi possiamo fare così Ehm Togliamo questo O Ho distrutto qualcosa Sullo sfondo Ehm Cos'era? Dove è finito? Qui Ok Quindi mettiamo via le cose che per ora non ci servono Queste non ci servono Questo 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 Queste le possiamo rimettere Qui dentro Ok Eh Ci servono dei Redstone Engine Perché questo appartiene A quella Quindi facciamo questi Redstone Engine Ehm Però prima voglio trovare un modo per 1,2,3,4 Se il resto Non già inserano qui sopra Mh Dovrò mettere Questi Qui Ok Sto provando ad immaginarmi come sarebbe il tutto 1,2 Così Questo qua No Non lo attiva Ehm Vediamo Lo metto qui in fondo Ok Perfetto E Ora cosa ci manca? Craftare Redstone Engine Come si craftano? Red Stone Engine Vediamo se li troviamo Tiu 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 Proviamo a scrivere Engine Engine Eccoli qua Legno Dei pistoni E del vetro Quindi se ce ne servono 4 Ok Ehm Tiu 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 Non so perché oggi sto facendo Tiu 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 Vediamo Se 4 Ce ne servono 8 di questi Ehm 4 di questi 4 di questi 12 di questi Ok Ora dovrebbe arrivarci tutto piano piano Diamo via questi Questi che per ora non sono Utili Ok abbiamo tutto Almeno Spero Andiamo a craftare questi Maledetti Redstone Engine Qua Invertiti 1 2 3 4 Eccoli qua Ora Piazziamoli Qui sopra Ah Maledetti Devo anche Farvi girare Ok Ora sono posizionati Perfetti Ehm Prendiamo da qui I nostri Stone transport pipe Uh Non posso Piazzarli qui sotto Hm Allora Dovrò togliere Questa roba Posso Posizionare Chissà se funziona Se no Posso comunque Metterli sul retro No Così non funziona Hm Quanti problemi Quanti problemi Hm Così non posso Perché non funzionerebbe L'unico modo È di fare Così Mettere questo lì 2 3 4 Speriamo che così funziona Ok Che fortuna Prendiamo il nostro Stone transport pipe Dove stai andando E li facciamo arrivare Però no Qua non voglio Stone transport pipe Ora che ci penso Voglio Voglio Degli iron transport pipe Così che possiamo Dirli di andare Solo da Una parte E questa parte Sarà verso di là Così 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 Vediamo Proviamo Voglio solo fare un test Mettendo Uno in ogni Spazio A vedere se vanno tutti Dalla parte giusta Anche se Non ci entrano Con la redstone Vediamo Dovrebbero tutti Arrivare qua Ok Sembrano andare giusti Vediamo qui Ok Perfetto Qua mettiamo Una cesta Fatemi togliere la musica Che distrae Quando parlo Ed in più Non mi piace Ascoltare tanto La musica Cos'altro Mi grato la gamba Ok Qui dobbiamo Mettere una cesta Con un filter No Per poi Portare tutta la cosa Però Prima Ah sì 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 Mi sono dimenticato Una cosa importantissima Oh mio dio Come Come Potrei Dimenticarmi Di una cosa del genere Dov'è il mio pennello bianco Eccolo qua 3 4 Coloriamoli di bianco Meglio rialzare qua Perché ho paura Che succeda qualcosa Con il resto Delle pipe Visto che Ci sono Non sono mai sicuro Perché non Conosco Il coding Della red pipe No Della Della red power Perché sì Conosco un po' di coding Delle altre mod Però non quello Della red power Quindi non so Come interagiscono Con le altre mod Quindi Non sono mai Sicuro di quello Che faccio Ora Colleghiamo questo Tutta la strada Così Ogni volta Che volo Sto 3 quarti d'ora Per rompere Le cavolo di tubi Ok Perfetto Ora qui Dobbiamo mettere Una cesta E cos'altro C'è altro Sì Il filter Quindi il timer Mi serve Questo mi serve Questo mi serve Questi li buttiamo Lì dentro Intanto Un filter Che ne avevo craftati 4 ma Ce ne servirà solo uno E cos'altro Vediamo Filter e basta Ok No Ho dimenticato Una cosa I tubi I tubi I tubi Eccoli qua Quindi voglio avere Il filter Qui sopra Però Direzionato Dall'altra parte Così Qui la cesta Che dovrò Trovare In qualche modo Nell'inventario E Vediamo Cos'altro Nient'altro C'è gente che urla Mettiamo il timer Qui Questo qui E Mi servirà un altro di quelli Oh mio dio Ce ne ho Non qui dentro Niente Quella rossa Sperando bene Sì Che fortuna Ok Mettiamo giorno Perfetto Cos'altro mi serve Abbiamo quello Stappato Andiamo a controllare I tempi Dappertutto Qui sono ok Voglio mettere una leva Su quel dannato Coso Perché Non lo voglio acceso 24 ore su 24 Aspetta Forse è meglio Metterlo Così Ok Perfetto E Ora Tutto Ci manca una cesta Quindi scriviamo Alc Questa Non la sto a craftare Perché Serve una persa di tempo Una perdita Non una persa Prendiamo Prendiamo questo E questo No Questa non mi serviva Perché l'ho presa Ok Questo Diamoci una Alchemical chest Prendiamone una Buttiamo via Quella che ci sia andata Ok E questo dovrebbe essere L'ultima cosa Che dobbiamo fare qui Quindi il filter Tira fuori dalla cesta Da dove vengono messi Questi Gli item bianchi Vengono portati qua Però Dobbiamo Allora Spostare l'uranio Perché non abbiamo Setappato uno per l'uranio Quindi lo metto qua E dico all'uranio Di andare Con L'arancione Dov'è l'arancione? Eccolo qua Sì Lo lascio lì Giusto perché Appunto Non voglio che l'uranio Vada là Perché non c'è Spazio per l'uranio Ok Perfetto Oppure potrei fare Un colore speciale Per l'uranio Ma Non lo so Sono indeciso Vabbè Lì sopra Ho già messo Tutti i colori Tutti a 6 Almeno A quanto ricordo Sono 6 Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 7? Perché 7? Il verde È lì Il bianco Questi due Sono già là sopra L'arancione E il bianco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vediamo che colore ci manca 1, 2, 3, 4, 5 Ah no Sono 6 Ho contato due volte l'arancione Ok sono un idiota Quindi ora tutto quello che ci manca È prendere di nuovo i tubi Che ovviamente sono un idiota e li ho messi via Speriamo che questi undi Siano abbastanza E collegare qua Ok Giusto giusto abbastanza Ok E dovremmo aver finito E dovremmo aver finito L'unica cosa che manca è mettere le ceste là sopra Che ovviamente mi sono dimenticato di prendere Stacchiamo questa E prendiamo un'altra 6 6 eh Ricordiamoci 6 Ok Perfetto E ora andiamo a piazzare queste su E abbiamo finito per questo episodio E questo è probabilmente il penultimo episodio Non ne sono ancora sicuro Se avete qualche cosa che volete che faccio Prima che termino la serie Ovviamente Sì Batterò il drago E sì Uzzerò una nuke Dovevate aspettare Uh Ecco Una cosa che ho dimenticato Fare bianco Ehm Vediamo altro C'è altro Ehm No Non c'ho altre idee Quindi se avete qualche idea Per terminare Il prossimo episodio Perché Non voglio terminare con questo Perché ormai siamo già un bel po' di tempo Ehm Niente Ditemelo nei commenti Via messaggio Questa serie è quasi finita Lo so che a qualcuno dispiace Ma Torneremo con la seconda stagione Di questa serie Che avrà molte molte più cose Quindi Prima di salutarvi Voglio attivare tutto E dar inizio Alla mia macchina Ok Manca solo una piccola cosa Che voglio fare Prima di salutarvi Mettere questo qui dentro Riattivare i nostri motori E Abbiamo terminato C'è un rumore pazzesco Giuro che se vi ascoltate il rumore Metto la mappa nel download Quindi se la volete scaricare È in download Nella descrizione E potete anche voi ascoltare A questo rumore pazzesco E niente Per questo Ultimo O terzultimo O penultimo Non so ancora Episodio È tutto Spero che vi sia piaciuto Con questo vi saluto Bella raga Qui Dani fra Solo una piccola nota Prima che vi saluto Ho fatto un po' di cose qua Ho aggiunto un restriction tube qua E uno qua Perché le cose bianche tornavano indietro Così tornano Vanno direttamente là E Sto pensando di aggiungere qualcos'altro Per utilizzare la cobblestone Per ora ho messo Un relay Al posto della cesta Che era qua Così tutta la cobblestone viene Distrutta Perché potete vedere Che ce n'è Veramente tanta Penso che metterò un relay qua Per togliere direttamente Quella cobblestone Festa finita Perché appunto Ci sta riempiendo Tutta la cosa di coble Quindi Niente Volevo dirvi solo questo Bella